Musica Erano le mogli dei capi clan a impartire le direttive ai vari membri del sodalizio e a stabilire i prezzi della droga. Duro colpo per il crampi stilo di Andria con l'operazione dei carabinieri in venti finiscono in carcere. L'edilizia ospedaliera approda in prima commissione regionale rassicurazioni sui tempi della struttura di Andria, mentre c'è la gara per quella del nord barese, scadenza fissata per il 19 giugno. A Vieste fino al prossimo 17 settembre è possibile visitare l'unica mostra di Banski in Puglia. Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Antenna Sud. In apertura del nostro telegiornale interregionale di Puglia e Basilicata lo avete sentito. Duro colpo per il crampi stilo di Andria nella sesta provincia pugliese. In venti sono finiti in carcere. Sentiamo. Questa non è un'associazione che si occupa soltanto dello spazio di stupefagenti, ma che si occupa di tenere ben saldo il territorio. I loro mariti, capi clan, sono in carcere da più di vent'anni, così a gestire le piazze di spaccio, a impartire gli ordini e a fare i prezzi della droga, erano le loro mogli insieme a una terza donna. Scacco al clan Pistillo di Andria. I carabinieri del comando provinciale di Bari insieme ai colleghi della BAPT hanno raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere 20 persone tra la città federiciana, Canosa, Bari e l'Albania. Tra queste figurano le tre donne, tutte under 40, la 37enne Isabella Cicolelle, la 40enne Noncio Sinisi, rispettivamente mogli dei capi clan Michele e Francesco Pistillo e la 39enne Vincenza Orlando, figura di spicco nella gestione del traffico di droga. Non solo questo, ma anche quello poi di gestire, di contribuire alla gestione delle piazze di spaccio, dei rapporti proprio all'interno dell'organigramma e di occuparsi anche della spartenza, quella che si chiama spartenza, cioè della divisione degli utili. A dare il via all'indagine, che conta 25 indagati, l'ordigno piazzato è fatto esplodere sotto l'auto di un vicebrigadiere dei Carabinieri di Ruvo di Puglia nel febbraio del 2020. In due anni di indagini è emerso che il clan utilizzava la forza dell'intimidazione anche con armi ed esplosivi per imporsi sul territorio contro il gruppo criminale rivale, quello dei Pastore, e contro chi decideva di collaborare con la giustizia. Una struttura gerarchicamente articolata, composta da organizzatori, promotori, dirigenti e partecipanti, che grazie al controllo del territorio riusciva a gestire il mercato degli stupefacenti, ricorrendo alla violenza e all'utilizzo di armi e munizioni. Di qui l'aggravante mafiosa, sequestrata in totale più di 3 kg di tritolo, 6 pistole, un fucile semiautomatico, circa 500 munizioni, nonché 24 kg di marijuana, 15 di hashish e 1 kg di cocaina. L'edilizia ospedaliera approda in prima commissione regionale, rassicurazioni sui tempi della struttura di Andria, mentre c'è la gara per quella del nord barese, scadenza fissata per il 19 giugno. Un'evoluzione importante che ha messo in luce, è vero alcune criticità, però ci ha dato delle conferme, quelle che cercavamo e soprattutto quello che quel territorio cerca. La città di Andria merita un ospedale da 400 posti letto, e questo è stato confermato, merita un ospedale di emergenza e urgenza capace di dare risposte all'emergenza sanitaria. In prima commissione regionale torna il nodo dell'edilizia ospedaliera dal Dipartimento Salute e rassicurano sui tempi del nostro comio di Andria, con una cabina di regia già al lavoro per accelerare i procedimenti avviati sul progetto del 2022. Adesso, in virtù di ciò che il Ministero ha chiesto alla Regione di rivedere la rete ospedaliera di tutti gli ospedali della Puglia e nel andare a rimodulare il piano clinico-gestionale dell'ospedale di Andria, il progetto che prevede dei costi aggiuntivi trova copertura nelle fonte di finanziamento che ci sono e soprattutto adesso si aspetta che i tecnici, i progettisti che hanno vinto la gara e incaricati, rivedono questo progetto secondo le indicazioni della cabina di regia. E vale anche per l'ospedale del Nord Barese. Il 5 maggio scorso è stata approvata dalla ASL la delibera per la gara di affidamento per la progettazione. Con tanto di rassicurazioni del responsabile unico del procedimento sulla tempistica, la data di scadenza per presentare l'offerta è quella del 19 giugno, mentre il 22 ci sarà la seduta pubblica per passare dall'offerta tecnica a quella economica. L'auspicio spiegano è che nel mese di agosto possa avvenire l'aggiudicazione, a ottobre dunque la sottoscrizione definitiva. L'analisi post voto è positiva per il centro-destra, tiene il partito democratico, ma il Movimento 5 Stelle crolla da Roma. Le ultime novità. Bisognerà aspettare l'esito dei ballottaggi per avere una mappa definitiva dei sindaci che governeranno le città. Ma per la Premier Giorgia Meloni, il centro-destra conferma la sua forza di coalizione di governo, il valore della stabilità e della chiarezza di fronte agli italiani. Vogliamo continuare a governare bene le città dove siamo stati al governo e vogliamo dimostrare che si può governare meglio le città dove la sinistra, che è in difficoltà, non pensiamo ad Ancuna, pensiamo a Brindisi, non è riuscita a ben governare. Significa che l'azione di governo è apprezzata da parte di italiani, stiamo lavorando bene, il centro-destra, il governo Meloni, ma anche Forza Italia, la Lega, è un segno importante. Dal PD trappella fiducia, in ottima salute, ha assicurato la segretaria Elie Schlein, in questa tornata ci rialziamo con slancio. Noi primo partito in quasi tutti comuni capoluogo, poi parla delle alleanze con i pentastellati che però non superano il 5%. Con tutti i leader noi ci siamo. Avanziamo, questo è importante, e naturalmente siamo convinti che ci siano i migliori presupposti per vincere tra due settimane nelle città. La destra frena. Ma queste per le opposizioni saranno due settimane di fuoco. Piaccia o non piaccia il secondo turno a quella trentina di comuni, quantomeno adesso non ricordo il numero preciso, che faranno la differenza per attribuire agli uni o agli altri la vittoria. Insomma, è come una finale di andata in cui il risultato è un pareggio, vediamo chi vince a ritorno. L'alleanza verde-sinistra ottiene ottimi risultati, cresce, molti capolori supera il 100%. Forza Italia conquista le percentuali più alte d'Italia e il nostro partito nella nostra regione tiene altissima la bandiera azzurra, portando a casa risultati eccezionali che superano quelli del partito del resto del paese. Lo afferma in una nota congiunta il commissario regionale di Forza Italia, Mauro Dattis, e il vice commissario Dario Damiani. Quindi ora passiamo a parlare delle elezioni comunali appena concluse. 8 i ballottaggi e 43 i sindaci eletti nel primo turno. 8 ballottaggi e 43 sindaci eletti al primo turno è il risultato finale delle elezioni in Puglia per la scelta dei primi cittadini e il rinnovo dei consigli comunali. Nell'unico capologo di provincia, a Brindisi, sarà sfida tra Giuseppe Marchionna, candidato del centrodestra, che si è fermato al 44%, e Francesco Fusco, candidato del PD e Movimento 5 Stelle, che ha ottenuto il 33,32% delle preferenze. In provincia di Bari saranno 5 i ballottaggi tra due settimane. Si torna alle urni ad Acquaviva delle Fonti con Francesca Petrofonte, del centrosinistra, e Marco Lenoci, del centrodestra. Ad Altamura, testa a testa tra il civico Vita Antonio Petronella e Giovanni Moramarco, del centrodestra. A Mola di Bari, il sindaco uscente Giovanni Colonna, ad un passo dalla vittoria, si sfiderà con Francesco Brunetti, del centrodestra. A Valenziano si lanceranno il guanto di sfida all'uscente Giampiero Romanazzi, di centrosinistra, e Maria Morisco, del centrodestra. A Noci sarà sfida tra Angelo Intini, lista civica, e Fortunato Mezzapesa, sostenuto dal centrosinistra. Ballottaggio anche a Carovigno, nel Brindisino, comune sciolto per mafia, che vede al ballottaggio Massimo Lanzillotti e Vincenzo Radisi. Infine a Biceglie, nella BAT, dove a sfidarsi saranno il sindaco uscente, Angelo Antonio Angarano, e lo storico sindaco Francesco Spina. Il direttore centrale anticrimine della Polizia di Stato, Francesco Messina, ha incontrato oggi gli studenti di Taranto, sul palco, le esperienze dirette di lotta alla mafia. Sentiamo. La mafia e l'antimafia, presentati in franchezza, quasi 300 studenti degli istituti Tarantini, Cabrini, Ferraris, Vittorino, e poi allievi vice marescialli della Marina. Un convegno organizzato dal sindacato di Polizia SIAP al teatro Tarentum con il prefetto Francesco Messina, direttore centrale anticrimine della Polizia di Stato. Una vasta platea di studenti alla quale spiegare tutto il lavoro che c'è per combattere la mafia. Su questi giovani dobbiamo contare per, come dire, pensare non soltanto di contenere un fenomeno complesso dal punto di vista criminale come quello delle mafie, ma nel futuro eradicarlo e per eradicarlo ci vuole un cambio di cultura. Il cambio della cultura non può avvenire a prescindere dai giovani. Tra i relatori anche Giuseppe Antoci, uno dei nemici principali della mafia che hanno provato ad ammazzare nel maggio 2016 con un attentato sventato dalla sua scorta. Un protocollo che porta il suo nome è diventato legge nel 2017 e ha devastato gli affari illegali della mafia dei Pascoli in Sicilia prima di tutto. Si tratta di un inaspiramento nella richiesta della certificazione antimafia per usufruire di terreni agricoli che godono di fondi europei. Tra l'altro ai ragazzi bisogna anche parlare di esperienze dirette e personali per far comprendere loro meglio di che si tratta. Sì, in fondo bisogna portarli al valore della scelta. Fare il proprio dovere deve essere normale. Non ci devono essere scorciatoie e non si può sempre delegare alla magistratura e alle forze dell'ordine perché quando arrivano loro un pezzo di paese è già sbagliato. Quindi l'antimafia è l'antimafia del giorno prima e quello che si prende anche cura di chi ha sbagliato. È un incontro che stiamo cercando di sviluppare un po' in tutta Italia in particolare nel sud Italia e fare entrare in contatto i ragazzi delle scuole medie e superiori con le istituzioni con chi è impegnato nella società civile per la cultura della sicurezza e la legalità. Una turista di origine tedesca ha perso la vita a Tricaseporto in provincia di Lecce dove si trovava in vacanza forse per una caduta accidentale. Stando a quanto è emerso sinora la donna scendeva le scale che portano verso la scogliera nella località Balneare quando è caduta e appunto ha battuto la testa. La caduta è stata fatale. Ora ufficiale l'ingresso di due nuovi assessori nella giunta del comune di Trani Giovanna Pizzichillo si occuperà del commercio e attività produttive mentre Cosimo Damiano di Lernia avrà le deleghe a PNRR e sviluppo del territorio. Sentiamo. Operazioni Filo d'Arianna messa a segno ieri dai carabinieri 16 arresti a Lecce. Cambiano i vertici e cambia l'organigramma del clan resta invece la grande tradizione di famiglia del clan politi e quanto emerge dall'operazione Filo d'Arianna scaturita da un filone d'indagine snodatosi dall'operazione Labirinto del 2018 in cui finì in manette lo stesso capo clan Saul Lepoliti nuovi assetti all'interno dell'omonimo gruppo della Sacra Corona Unità si sono infatti resi indispensabili per ristabilire la leadership per i ruoli del sodalizio criminale con un punto fermo la prepotenza e la violenza restano immutate numerosi gli episodi relativi alle richieste di pizzo nei confronti di commercianti destinatari di minacce di morte sopraffazione anche nella riscossione dei debiti di droga così come nella richiesta di saldo di prestiti di denaro e in un caso persino le ingerenze dell'attività politica del comune di Porto Cesario e dell'aggiunta in carica nel 2017 in particolare alcuni degli indagati avrebbero avvicinato un consigliere comunale dell'epoca il politico aveva preannunciato un'interrogazione sulla questione relativa a un locale e uno stabilimento del litorale ionico cogestiti da alcuni sodali coinvolti in presunti casi di abusivismo edilizio dopo l'intervento del clan quell'interrogazione effettivamente non è stata mai presentata il consigliere era stato avvicinato e invitato a scendere dalla propria auto da uno degli indagati tie non sai ci simu dietro di me ci sono quelli di Monteroni questo l'invito a disinteressarsi agli affari dei locali di Porto Cesario a lasciar stare per non incorrere in rappresaglie ma quella forza cieca violenta del gruppo è stata utilizzata in diverse altre occasioni come in quella di un pestaggio e danni di un uomo sospettato di essere l'autore di un furto in casa degli zii di uno degli indagati e poi una società di noleggio di auto di Gallipoli per esempio si sarebbe vista rivolgere oltre alla richiesta estorsiva anche la minaccia dell'incendio del locale in caso di mancato pagamento il tutto con la complicità di uno degli indagati ritenuti vicino al clan padovano della città bella l'organizzazione infatti era in pace con i clan limitrofi e in alcune circostanze si spalleggiavano e si aiutavano come una sorta di franchising i consiglieri regionali di Basilicata Oltre Viziello e Zullino hanno tenuto questa mattina a potenza una conferenza stampa sul problema delle lunghe liste d'attesa che investe la sanità lucana la necessità di invertire la rotta in tema di liste di attesa attraverso l'attuazione del piano operativo regionale del quale in Basilicata si è persa traccia un piano previsto dalla legge che contenga una ricognizione delle risorse di derivazione statale messe a disposizione dalla regione per raccorciare i tempi di erogazioni di prestazioni sanitarie questo è il focus della conferenza stampa indetta dai consiglieri regionali di Basilicata Oltre Giovanni Viziello e Massimo Zullino che sulla questione presenteranno un emendamento alla legge di stabilità regionale 2023 in consiglio regionale è l'oggetto della conferenza stampa è l'oggetto dell'emendamento che oggi presenteremo in consiglio il problema della lista attesa che è pure un problema nazionale in Basilicata delle peculiarità in termini negativi alcune stime valutano a 400.000 prestazioni tra diagnostiche e riabilitative in sospeso vuoi ovviamente per il problema della pandemia vuoi perché non sono stati presi provvedimenti tempestivi per incominciare a smaltire la lista attesa basterebbe fare un test semplicissimo basta telefonare ai CUP e chiedere una visita premologica i tempi di attesa non sono inferiori a un anno e mezzo o due e questa è una cosa che io da medico come dire palpo tutti i giorni tocco tutti i giorni sostanzialmente Bardi non riesce a dare quell'imbrinding sulla sanità e chiaramente è un fallimento totale con la gestione Fanelli perché siamo con la sanità al collasso più totale inaugurato all'ospedale di Copertino il nuovo reparto di ortopedia è stato inoltre fatto il punto della situazione sui lavori al pronto soccorso sentiamo all'ospedale di Copertino è stato inaugurato il nuovo reparto di ortopedia presente al primo piano che potrà accogliere 23 pazienti previsto anche un modulo di chirurgia del piede per specializzare sempre di più l'attività del reparto e in generale far sì che il nosocomio possa far fronte alle necessità crescenti di ricoveri e prestazioni la ristrutturazione e il trasferimento dal terzo al primo piano del reparto di ortopedia è strategico per tutte le dinamiche o per la progettualità che abbiamo per questo ospedale aprendo l'ortopedia al primo piano liberiamo il terzo piano e avremo la disponibilità di un reparto molto più grande dove allocare la geriatria potrà ospitare invece di 19 attuali posti letto di geriatria ne potrà ospitare 32 sarà un grandissimo vantaggio per l'economia dell'ospedale inoltre procedono secondo i piani i lavori di ampliamento del pronto soccorso e della riabilitazione che dovrebbero concludersi entro un anno e presto partiranno anche quelli per la terapia intensiva c'è necessità di avere maggiori spazi il pronto soccorso attuale non riesce a garantire noi abbiamo avuto delle giornate che sono state terribili perché avevamo i pazienti nelle lettiche in un corridoio così per questo c'è il mio impegno soprattutto della direzione generale a terminare a completare molto velocemente i lavori di ristrutturazione perché è un ospedale che ha il pronto soccorso che è il numero di accessi maggiore subito per il Vito Fazzi quindi un'attenzione che ovviamente merita tutto e ovviamente non si ferma qui i lavori continueranno cercheremo di fare tutto il possibile per rilanciare questa attività Un appello quello lanciato dalla Presidente Barbara Cittadini durante la 60esima Assemblea Generale dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata AIOP è accolto dal sottosegretario Marcello Gemmato sentiamo Un appello quello lanciato dalla Presidente Barbara Cittadini durante la 60esima Assemblea Generale dell'Associazione Italiana Ospedaliera Privata AIOP è raccolto dal sottosegretario Marcello Gemmato segretario in un momento in cui la sanità nazionale ha degli effettivi problemi possiamo dirlo è una cosa risaputa in che modo la sanità privata può essere di supporto reale per la comunità la giusta integrazione pubblica può rendere una sanità migliore per i cittadini purtroppo nella fase post-pandemica lei lo ricordava il nostro sistema sanitario nazionale pubblico sta dimostrando tutta una serie di limiti purtroppo molte volte le regioni non riescono ad intercettare le opportunità che il governo centrale offre penso ai 500 milioni di euro posti in bilancio a disposizione nelle regioni per abbattere le liste d'attesa soltanto il 30% è stato speso dalle stesse il presidente emiliano mente sapendo di mentire in realtà il tema della Puglia è un altro noi siamo primi in Italia per livello di debito più di 200 milioni di euro ci porta ad essere i primi in questo triste primato quindi c'è più una qualità di spesa da parte della giunta emiliano piuttosto che di dotazione di carattere economico quindi il presidente emiliano come sempre de-responsabilizza e dà la colpa ad altri dovrebbe governare meglio la nostra regione il vice ministro degli esteri e della cooperazione internazionale Edmondo Cirielli ha fatto visita al Cian Bari siamo molto orgogliosi come Italia di avere la sede prestigiosa dell'istituto agronomico del Mediterraneo qui a Bari e che siamo molto orgogliosi di dare un contributo importante innanzitutto nella valorizzazione delle risorse umane il piano Mattei lanciato da Giorgia Meloni parla soprattutto di questo parla di un nuovo impegno dell'Italia e tramite l'Italia dell'Europa per valorizzare la componente umana dell'Africa che per noi è certamente la risorsa più importante le linee del governo Meloni e prossimi passi nell'ambito della valorizzazione delle sinergie con gli altri paesi sono stati questi alcuni dei temi toccati dal vice ministro degli esteri e della cooperazione internazionale Edmondo Cirielli accompagnato dal sottosegretario della salute l'onorevole Gemmato e dal vice ministro della giustizia Francesco Polosisto al SIEM Bari incontro con i 150 funzionari e ricercatori oltre agli 80 borsisti provenienti da oltre 15 paesi del Mediterraneo e dell'Africa gli impatti sono molto positivi perché le nostre missioni sono quella della formazione quella della ricerca e quella della cooperazione sono missioni che si integrano tra di loro e oggi ne abbiamo parlato alla presenza del vice ministro Cirielli e della direttrice generale della cooperazione della direzione della cooperazione italiana sono attività che hanno bisogno di essere implementate di avere un maggiore sostegno da parte del ministero degli affari esteri la nostra missione è questa noi siamo qui siamo disponibili motivati portare avanti lo sviluppo locale no al rincaro dell'acqua ad affermarlo è col diretti Puglia che ha dato vita ad un sit-in di protesta sotto il palazzo dell'agricoltura a Bari sentiamo l'acqua una risorsa che costa caro tre volte più del solito ed è necessario porre rimedio per non mandare il sistema agricolo sempre più in difficoltà questa una delle richieste dei tanti agricoltori che si sono riuniti a Bari sotto il palazzo regionale dell'agricoltura per chiedere alle istituzioni i provvedimenti l'iniziativa organizzata da Coldiretti Puglia porta con sé anche preoccupazioni sulla competitività dei prodotti pugliesi nel contesto nazionale ed europeo no insomma alle cosiddette cartelle pazze su un nuovo piano in rigo è aumentato dei tre volte il costo dell'attingimento dell'acqua quindi significa che da una parte i produttori hanno dei prezzi che sono in diminuzione e dall'altra parte oggi abbiamo dei costi di produzione che stanno lievitando anche a casa nostra anche sull'attingimento dell'acqua addirittura abbiamo comuni con un prezzo e comuni con un altro prezzo parliamo di un euro e 45 l'attingimento dell'acqua che è tre volte quello di alcune aree tre volte di più di quello dell'ARIF tre volte di più di quello di altre province è una cosa che non è giustificabile preoccupa inoltre la riorganizzazione dei consorsi e la loro poca efficienza chiesto un incontro con l'assessore Pentasuglia andremo da Pentasuglia a chiedere che la regione intervenga su questo aumento dei prezzi che sicuramente sarà dovuto da delle condizioni che si sono peggiorate su alcuni costi ma non possiamo immaginarlo c'è da tutelare l'agricoltura pugliese che è la più grande d'Italia in termini di ricchezza generata e di numero di persone occupate quindi la regione deve far sì che alcuni costi vengano capitalizzati a nostro vantaggio Agenda 2030 e territori formazione e sviluppo sostenibile dentro e fuori le aziende questi temi al centro dell'evento proposto da Philip Morris Italia presso la sede di Confindustria Taranto sentiamo Philip Morris ha scelto Taranto come laboratorio per una importante iniziativa competenze al centro dello sviluppo sostenibile il trasferimento delle competenze come motore per l'innovazione e la sostenibilità l'incontro organizzato a Taranto da Asvis e Philip Morris in collaborazione con Confindustria Taranto qui a Taranto lavorano ormai quasi 400 persone è stata aperta in un momento molto difficile evidentemente per il paese anche per tutte le filiere economiche in mezzo alla pandemia e fin da subito è stato chiaro che la volontà per noi per l'azienda era di collegare la Puglia e Taranto all'Emilia e tutto il resto della filiera la formazione è costante questo l'impegno delle aziende affinché sia possibile la transizione verde e quella digitale a crescere l'innovazione e migliorare la competitività delle imprese di aumentare sempre di più le competenze di chi già sta facendo un percorso diciamo di possibilmente anche post diploma di terziari education come quella che rappresentiamo noi ma a tutti i livelli in realtà vanno aumentate le competenze per poter portare avanti quello che è il nostro mantra la diversificazione del territorio e quindi la diversificazione significa sostenibilità economia circolare le competenze sono al centro come appunto il titolo di questo evento di oggi inaugurato il nuovo ecocentro di Torre Suda nell'Eccese il comune mira così a superare la soglia del 70% della raccolta differenziata sentiamo il comune di Racale per contrastare l'abbandono dei rifiuti nella sua località marina e per far volare ancora di più la raccolta differenziata che sfiora già il 70% ha inaugurato un nuovo ecocentro comunale proprio a Torre Suda il nuovo ecocentro si aggiunge a quello che c'è a Racale nella zona industriale andando ad ampliare così i servizi offerti alla cittadinanza per il corretto conferimento dei rifiuti qui era necessario e doveroso anche su Torre Suda portare un altro un altro ecocentro che può dare possibilità a tutti i cittadini anche residenti qui a Torre Suda di differenziare i loro rifiuti questo cosa servirà servirà a ridurre quanto più possibile l'impatto ambientale che i rifiuti generano sul territorio cercare di sensibilizzare quanto più possibile i nostri cittadini a utilizzare questi siti questi ecocentri invece di deturpare le nostre campagne dove registriamo ancora purtroppo abbandono dei rifiuti sempre più costante noi come amministrazione cerchiamo di migliorare tutto un discorso legato all'ambiente quindi portare a differenziare quanto più possibile i rifiuti da diversi anni che registriamo già un aumento della differenziata quindi siamo partiti nel 2012 con il 13% oggi registriamo circa il 70% di differenziata quindi portando risultati eccellenti e essere tra i comuni virtuosi dell'intera provincia e questo non fa altro che essere un lustro per il nostro comune ed ora ci fermiamo per un piccolo break pubblicitario restate con noi ben ritrovati ora ci spostiamo nella BAT le sostanze biancastre avvistate sulla superficie dello specchio d'acqua in zona porto a Barletta sono state campionate da Arpa Puglia in attesa dell'esito Lega Ambiente e Lega Navale rassicurano i cittadini i presidenti di Lega Ambiente e Lega Navale Barletta chiedono che si placchino le polemiche riguardo gli ultimi fenomeni verificatisi in mare le sostanze biancastre avvistate sulla superficie dello specchio d'acqua marina in zona porto sono state campionate da Arpa Puglia che si sta occupando di eseguire le analisi chimiche e batteriologiche in attesa dell'esito diverse potrebbero essere le interpretazioni del fenomeno vedendo quello che è accaduto sia negli scorsi anni che anche in altre parti d'Italia è verificato delle agenzie Arpa regionali noi tendiamo a credere che è un'eccessiva fioritura delle pinacee che produce tanto polline da creare queste macchie gialle diciamo che la certezza ci arriverà dai dati però se consideriamo il fatto che a distanza di pochissime ore è già svanito tutto in mare se fossero stati degli inquinanti tipo oli insomma carburante e altro sicuramente avremmo ancora trovato delle macchie a distanza di pochissime ore l'allarviso non serve a niente il monitoraggio continuo quello che noi facciamo perché siamo uomini di mare e abbiamo il rispetto totale del mare il rispetto che dovrebbero avere anzi devono avere tutti la nostra attenzione è proprio rivolta al mare non solo in superficie ma anche sott'acqua Barletta al centro di due bandiere blu Viceglia Sud e Margherita di Savoia a nord si prepara ad una stagione estiva promettente dal punto di vista sportivo ed anche turistico abbiamo una serie di attività che vanno dai mondiali quest'anno di sprint e di costa rowing è uno sport proprio che si fa da riva noi abbiamo una spiaggia in concessione e dico anche che questa è forse l'unica spiaggia che abbiamo in Puglia e pochissime tra in Italia proprio dedicata a questo tipo di sport ci spostiamo a Taranto una giornata di dibattiti dedicata al progetto europeo Smartport che prevede l'efficientamento energetico delle attività portuali maggiori dettagli nel servizio verso l'efficientamento energetico e la sostenibilità delle attività portuali e l'obiettivo del progetto europeo Interreg Italia Albania Montenegro Smartport che vede come capofila l'autorità di sistema portuale della Mar Ionio il dipartimento ionico dell'Università di Bari ha ospitato una giornata di confronto e di studio sui risultati del progetto tra i protagonisti di Smartport i porti di Taranto Bari in Montenegro e Vlore in Albania il comune di Termoli e Arpa Puglia sono stati sviluppati una serie di progetti che per quanto riguarda la sostenibilità ambientale in particolare prevedono la realizzazione di un sistema integrato di monitoraggio di tutte le matrici ambientali del porto di Taranto la raccolta dei rifiuti l'elettrificazione dei benefici saranno legati a piani che mirino alla riduzione dell'impronta diciamo di carbonio quindi la riduzione di produzione di CO2 nei porti l'autorità portuale che porta avanti questo progetto nella fattispecie intende creare delle misure proprio per aumentare l'efficientamento energetico nei porti messe su delle strategie di intervento per la riduzione dei consumi e dei fabbisogni e dell'impronta di carbonio ARPA ha supportato queste attività in termini tecnico-scientifici il prefetto di potenza ha convocato stamane il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione dei festeggiamenti del santo patrono del capoluogo lucano sentiamo il prefetto di potenza sua eccellenza Michele Campanaro ha convocato il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per la verifica delle misure di security e safety da assicurare in previsione dei festeggiamenti per il santo patrono San Gerardo eventi che prenderanno il via già dal 26 maggio prevalentemente nel centro storico del capoluogo lucano e vedranno il momento più importante il pomeriggio di lunedì 29 maggio con la storica parata di Turchi dove oltre mille figuranti percorreranno in sfilata le strade di potenza sentiamo dalle parole del prefetto l'obiettivo dell'incontro al quale hanno preso parte anche i vertici provinciali delle forze di polizia vigili del fuoco il direttore del 118 ed il presidente dell'associazione e i portatori del santo quello di garantire le misure di sicurezza che sono previste da una direttiva del ministero dell'interno e che abbiamo più volte fatto oggetto di approfondimento con gli amministratori locali per cui bisogna sempre fare in modo che soprattutto gli eventi quelli più partecipati con la presenza di un numero importante di cittadini si svolgano in piena sicurezza è una delle ricorrenze più sentite qui dall'amministrazione dal comune dalla comunità potentina sono più giorni che inizieranno dal 26 che avranno il culmine nella parata del 29 oltre che nella festa religiosa del giorno successivo dobbiamo fare in modo che questi giorni siano giorni di festa e quindi vengano organizzati nella maniera migliore la sicurezza stradale al centro di un confronto fra autorità forze di polizia e studenti all'istituto superiore Mondelli di Massafra una semplice distrazione può rivelarsi mortale alla guida non si scherza per ribadire questo messaggio le autorità hanno raggiunto gli studenti dell'istituto agrario Mondelli di Massafra puntiamo molto sull'oro sappiamo che sono brillanti sono preparati sono molto attenti anche a queste problematiche noi cercheremo di fornire oggi con il contributo anche tecnico delle forze di polizia mio in particolare ma anche del sindaco insomma una ulteriore consapevolezza sui comportamenti virtuosi che bisogna tenere siamo tutti qui proprio per metterci a disposizione dei ragazzi anche per sentirli per capire cosa ne pensano per trarre spunto anche dalle loro impressioni quale messaggio lanciare a questi ragazzi che si apprestano a guidare quindi a conseguire la patente il messaggio che noi intendiamo lanciare è quello della consapevolezza devono comprendere quali sono i rischi e quali sono le condotte che vanno tenute per evitare purtroppo quello che avviene spesso sulle nostre strade quindi incidenti con conseguenze purtroppo importanti tra i tuoi colitani c'è consapevolezza secondo te rispetto alla sicurezza stradale? sì diciamo che c'è consapevolezza grazie proprio a questi incontri che si fanno sempre più spesso diciamolo insieme allora anche a chi ci ascolta quando si guida si guida e basta senza telefonine senza altro certo si guida e basta e non si beve prima di mettersi alla guida dopo un anno di attesa si apre uno spiraglio per l'assunzione dei vincitori del concorso di pulitore di sanità service Lecce e per gli operatori del trasporto secondario a riferirlo il Cobas dopo un incontro con Asl e l'amministratore di sanità service sentiamo si apre uno spiraglio importante per i vincitori del concorso per pulitore di sanità service Lecce ma anche per gli operatori del trasporto secondario che ormai da un anno aspettano di poter entrare in servizio a riferirlo il Cobas soddisfatto di questo importante passo in avanti dopo l'incontro con i dirigenti dell'Asl e con l'amministratore di sanità service Francesco Massaro quest'ultimo si è impegnato ad inoltrare la richiesta per le assunzioni di 89 pulitori ovvero l'intero fabbisogno dal 2023 e anche per gli operatori del trasporto secondario questo facendo riferimento alle nuove linee guida della regione che ha stabilito che le procedure di reclutamento e gestione del personale sono subordinate all'autorizzazione da parte della giunta regionale previa definizione da parte di ciascuna società di un apposito piano assunzionale trimestrale da qui l'impegno dell'amministratore di sanità service sanità service ha detto che farà la richiesta quindi ci sarà l'input a questa nuova procedura per effettuare le assunzioni alla regione Puglia e deciderà successivamente quindi in questo caso finalmente si capirà chi non sta facendo qualcosa speriamo che almeno per il primo luglio con un anno di ritardo si possano effettuare queste nuove assunzioni come hanno reagito i lavoratori a questa novità c'è da una parte la gioia di una futura stabilizzazione però dall'altra c'è sempre l'amarezza e dell'incertezza dovuta a questa procedura Caro Affitti a Bari ancora proteste degli studenti proseguono le proteste contro il Caro Affitti un problema preso a cuore dagli studenti universitari di tutta Italia ragion per cui dopo le dimostrazioni dei giorni scorsi è stata indetta la giornata di mobilitazione nazionale sotto le sedi regionali a Bari presente la delegazione di cambiare lotta vorremmo che appunto la regione spinga il governo non soltanto ad aprire un tavolo con noi ma vorremmo anche che la regione protocolli quelle che sono le nostre richieste la prima richiesta è quella di abolire senza sé senza ma la legge 431 del 98 che il centro-sinistra porta avanti e porta la liberalizzazione degli affitti vogliamo che vogliamo che la regione si impegni nell'aumento di studentati pubblici a canone agevolato per tutti gli studenti delle fasce popolari e ovviamente cerchi da ogni logica meritocratico come ultimo punto vogliamo che tutto lo sfitto abbandonato venga riconvertito in sfitto pubblico e privato venga riconvertito in edilizia residenziale sono stati fatti passi in avanti rispetto ai giorni scorsi la risposta è affermativa ma a quanto pare non ha sufficienza per venire a capo del problema beh sicuramente noi abbiamo avuto una prima vittoria ossia che il governo ha messo a disposizione 660 milioni per la questione per la questione degli affitti ovviamente noi cioè secondo noi non è una risposta sufficiente anche perché a nostro avviso è una risposta emergenziale quando ormai sono decenni che il governo dovrebbe che i governi che si sono susseguiti sia di centrodestra sia di centrosinistra si sarebbero dovuti impegnare concretamente per la questione del caro affitto prima che prima che questo problema raggiungesse l'apice e ci ha portati appunto l'esperazione portando addirittura le tende sotto le università ci spostiamo in Capitanata a Vieste fino al prossimo 17 settembre è possibile visitare l'unica mostra in Puglia di Branschi Vieste non è più solo turismo balneare da qualche tempo ormai è centro di riferimento artistico e culturale come dimostra il fatto che la cittadina garganica ospita Banksy a Vieste l'unica mostra in Puglia dedicata all'artista inglese forse più conosciuto al mondo il precursore delle visioni creative di un'intera generazione il talento più rappresentativo della street art internazionale fino al 17 settembre il pubblico potrà ammirare al museo civico archeologico Michele Petrone alcune tra le opere più rappresentative degli ultimi decenni conosciute ovunque per la loro carica dirompente per i loro messaggi trasversali politici e sociali capaci di interpretare con i tratti veloci e intuitivi della street art la realtà complessa dei nostri tempi una mostra di interesse internazionale di grandissimo prestigio una mostra che è stata ospitata nei musei insomma più importanti è veramente un altro obiettivo culturale che raggiungiamo qualcosa per il quale abbiamo lavorato moltissimo e qualcosa che va ad aggiungere contenuti culturali all'offerta paesaggistica che il nostro paese già vanta insomma e che è conosciuta in tutto il mondo in Capitanata non si è mai fatto un evento dal punto di vista d'arte televisive contemporanee negli ultimi cento anni nessuna amministrazione ha mai fatto ciò quindi diventa un evento importantissimo diventa storico per noi diventa storico anche per me chiaramente perché l'amministrazione ha deposto la fiducia in me quindi si fa qualcosa che non si è mai fatto poi siamo anche fortunati perché stiamo facendo l'artista in questo momento più famoso al mondo l'artista che parla del sociale in maniera sarcastica e quindi ne vendo oltre che da punto di vista culturale anche fortemente mediatico che sarà da collante turistico-culturale era questo il nostro ultimo servizio grazie per essere stati con noi arrivederci rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo grazie a tutti